maria de filippi a uomini e donne prende la situazione in mano quando decide di mandare via marco la conduttrice sembra non aver apprezzato per nulla il comportamento del cavaliere che dopo circa due mesi di conoscenza con aurora tropea ha deciso di chiudere tutto la padrona di casa aveva già dimostrato di aver trovato strano il comportamento nel corso della puntata andata in non da ieri aurora si è seduta al centro studio con marco come fosse il momento della loro scelta invece la dama voleva semplicemente avere un ultimo confronto con il cavaliere consapevole che quest'ultimo avrebbe chiuso la loro conoscenza addirittura aurora ha dichiarato di avere un regalo per lui la puntata di oggi parte da quel momento continua cipollari e gianni sperti che trovano imbarazzante il fatto che la tropea stia lì a parlare dolcemente a marco come se non fosse accaduto nulla dopo vari attacchi ecco che maria chiede a marco di lasciare uomini e donne innanzitutto gli chiede se potrebbe essere interessato a qualche dama del parterre e ricevendo un no come risposta di chiara infastidita lasci il programma allora se non ti interessa nessuna e non ti interessa aurora allora non vedo perché dovresti restare è chiaro a tutti che marco non voglia andare via ma si ritrova costretto a farlo di fronte all'invito diretto di de filippi la conduttrice gli chiede se vuole fare un ultimo ballo con aurora però tina fa notare che non è il caso così la padrona di casa saluta marco mentre vari volti over ballano al centro studio aurora si lascia andare a un pianto disperato durante il quale viene consolata da alcuni partecipanti